Ciao amici, oggi vi faccio vedere come tagliare in tante parti il coniglio. Un coniglio come estrarre le parti per poi cucinarlo. Allora, incominciamo con le cosce. Teniamo due pezzi e tagliamo i fegatini per poi poter condire la pasta, il risotto. Abbiamo ancora il cuore, ci si servirà poi anche per condire, non lo butto, per condire anche gli arrosti delle carni. Togliamo la testa. Togliamo questa parte superiore, per gli arti superiori. Facciamo benissimo dividere le cosce. Togliamo queste cosce. Di questa parte qua faremo le bistecchine interne di coniglio. Andiamo a vedere come si fanno. Allora, questa parte è più carnosa. Così. Si aprono. con il batticarne. Andiamo. Abbiamo la nostra bistecchina. Si continua ancora. Si apre così. Ecco. Delle bistecchine, piccoli ossibuchi di coniglio che poi possiamo impanare. un'altra bistecchina. Si continua ancora della parte con la carne. ecco la nostra piccola bistecchina. Ecco l'altra bistecchina di coniglio. dopodichè ormai è finito. Quindi questa parte qua la possiamo tagliare in due pezzi. Ecco. E continuiamo ancora. Per quanto riguarda la testa, io sono goloso della testa, per poterla poi cucinare, ecco cosa fare. per quanto riguarda la testa, si fa una piccola incisione. con il conoscimento. Vediamo la testa. lo abbiamo in due parti. dopodichè il nostro coniglio è servito.